Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction. Qualche giorno fa è uscito il trailer di Winnie the Pooh Bladenoni 2. Non ero intenzionato a pubblicare questo video ma, a quanto pare, dopo un po' di richieste da parte vostra su Instagram, anzi andate a seguirmi anche lì, il link è nella descrizione, ho deciso di portare questa reaction. Non ho ancora visto il trailer perché non è esattamente uno dei film che attendo di più, dato che il primo ad una prima visione non mi era neanche dispiaciuto così tanto, ma poi è veramente diventato uno dei peggiori film, per quanto mi riguarda uno dei peggiori film del 2023, complice il fatto che per vederlo ho speso 25 euro di Steelbook e, beh, quindi un po' mi rode, ma vediamo questo trailer perché dalle prime immagini, dal poster, sembra qualcosa di leggermente diverso perché ci sono più soldi. In confronto al primo film, che aveva un budget di 100.000 dollari, questo ne ha un milione se non sbaglio, e lo si vede anche dalla differenza di trucco perché, al posto di avere dei mascheroni di plastica, questa volta sembra proprio un prostetico comunque. La differenza si vede. Comunque, prima di passare alla reaction, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, tra Instagram, TikTok, X, Letterboxd, e c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questi design. In questo periodo ci sono i design a tema Fanta Sanremo o Sanremo. Il mio codice è sempre ILPENSIERO4 e vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle in modo totalmente gratuito. Non è Christopher Robin, quindi tutt'altra storia, va bene, lasciamo perdere tutto quello che abbiamo visto nel primo film. Ha un qualcosa di Barry Keoghan. Ma cos'era? Cos'era? Vabbè. I soldi si vedono. Questa volta si vedono. E chi è? Tigro. Non credo giustificheranno in qualche modo la differenza di Pooh, o l'esistenza degli altri personaggi, non lo so. Molto più magro, la faccia totalmente diversa, le mani diverse, il posto dei guanti da cucina. Ah no, è Tigro questo ovviamente. Christopher. Allora è Christopher. Hanno cambiato curatore. Cos'è? Cos'è? Che cos'è? I soldi sono l'unica cosa che effettivamente si riesce ad intravedere nella produzione perché le idee mi sembrano più o meno le stesse. Abbiamo un altro film che probabilmente ha in principio l'idea di essere preso poco sul serio ma che alla fine si rivela molto serioso nel suo intento. Ed è la cosa che più non ho apprezzato nel primo Winnie the Pooh Bladenoni perché se tu fai un film horror su Winnie the Pooh ormai sappiamo che quando scadono i diritti di qualcosa già subito arriva il film horror è una cosa che è partita appunto in parte da questo Winnie the Pooh Bladenoni poi ci sarà appunto Steamboat Willie, Peter Pan, Bambi, Pinocchio non mi ricordo quant'altra roba c'è, c'è Nerentola comunque ci saranno tantissimi film horror per far uscire un film del genere bisogna prendersi poco sul serio anche questo secondo sembra essere così sembra un horror serio e quindi di conseguenza non è serio perché se qualcosa che non deve essere serio si prende sul serio risulta ridicolo il doppio. Non ho capito questa scelta di cambiare tutto cambiare lo stile dei personaggi cambiare anche attore di Christopher Robin sempre se è Christopher Robin io ho sentito Christopher detto da Tigro non so se in italiano lo chiameranno Tigro ancora non so se ci saranno altri personaggi del Bosco dei Centoacri però vediamo il film dovrebbe arrivare nelle sale americane non so per quanti giorni il 15 marzo se non sbaglio in Italia probabilmente come è successo per il primo arriverà dopo mesi magari anche Midnight Factory riprenderà il film per portarlo qui in Italia sicuramente per questo non prenderò la steelbook aspetterò che lo metteranno su Prime Video perché alla fine è successo così per il primo film e quei 25-30 euro per Winnie the Pooh Bladenoni non torneranno mai più indietro ma ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto credo che la prossima reaction arriverà fra qualche giorno perché l'11 dovrebbe uscire il trailer il teaser di Deadpool 3 vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social e i link di Pampling codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao Ciao Grazie a tutti.